Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi della tastiera da gaming Corsair K55 Pro XT che potete acquistare su Amazon ad un costo di 80€ circa. Al momento è esaurita, però tornerà perché essendo una tastiera nuova tornerà. La tastiera in questione ha un costo di 80€ circa, quindi si tratta di un prodotto semi-economico, lasciatemi sfuggire il termine, il quale non scende a compromessi con la qualità, perché come sapete Corsair al di là del costo del prodotto produce sempre hardware di alta qualità. La tastiera in questione è a membrana, quindi non è meccanica, anche se fa un po' di rumore. Adesso apro un block notice così vi faccio udire il rumore. Come potete udire il suono, o meglio il rumore, emesso dalla tastiera. Cioè, non è eccessivo come una tastiera meccanica, ma c'è. Non è una tastiera membra meccanica o meccanica, ma è una tastiera completamente a membrana. Sinceramente io provengo da tastiere meccaniche e quando ho provato questa tastiera avevo un po' di timore, perché essendo a membrana non è che mi va tanto a genio la cosa, ma vi posso garantire che la tastiera è davvero eccezionale. I tasti sono estremamente comodi, considerate che io utilizzo la tastiera tantissimo per scrivere articoli, quindi diciamo è importantissimo avere non solo i tasti morbidi alla pressione, ma anche una lunga serie di caratteristiche che vi elencherò in questo video. La tastiera presenta, come vedete, un poggiapolsi, eccolo qui, un comodo poggiapolsi che può essere rimosso o, diciamo, installato se lo ritenete opportuno. Quindi magari se preferite utilizzare la tastiera senza poggiapolsi non siete obbligati a farlo, perché ci sono alcune tastiere che presentano il poggiapolsi integrato. Invece questa tastiera ha il poggiapolsi rimovibile, quindi potete, diciamo, toglierlo o metterlo a seconda della vostra preferenza. Da eloggiare la qualità del poggiapolsi perché è ruido. Ora, non so se udite questo rumore, ma è ruido al tatto, il che significa che, essendo ruido, difficilmente scivolerete con la mano, con, diciamo, il polso, il braccio, ma la particolarità ancora più interessante risiede nel fatto che non tende ad usurarsi nel corso del tempo. Ci sono prodotti sul mercato che, purtroppo, nel corso del tempo, a causa dell'eccessivo utilizzo, tendono a diventare lisci e, personalmente, a me recano un po' di fastidio. Invece, questo materiale è fatto in un modo che è ruido e non si consuma così facilmente. È davvero eccezionale. La tastiera presenta, nella parte superiore, una, chiamiamola, barra, tipo, una parte superiore liscia, quindi tendente sia a sporcarsi sia a graffiarsi, dove ci sono il logo Corsair che, purtroppo, come potete vedere, non si accende, ed è un vero peccato perché a me sarebbe piaciuto vederlo acceso, il pulsante delle macro, quindi potete, diciamo, creare diverse combinazioni a seconda della vostra esigenza, il pulsante per spegnere e accendere, diciamo, i led e gestire l'intensità di illuminazione, e i vari pulsanti per gestire il volume e i contenuti multimediali. La tastiera presenta tantissime combinazioni che sono fortunatamente riportate sul manuale, come Fn, più 1, più 2, più 3, e così via dicendo, che, come potete vedere, cambia il tipo di effetto. Naturalmente potete modificare i led, quindi in velocità, in luminosità e in tipologia, sia dalla tastiera stessa, sia dal software IQ, che potete scaricare sul sito web ufficiale. Nel mio caso, come vedete, sto utilizzando il tappetino, la tastiera e il mouse di Corsair, che vi ho già recensito, quindi, diciamo, utilizzo la stessa illuminazione per tutti gli hardware Corsair. Si tratta di una tastiera... sinceramente ho avuto modo di testarla per diverso tempo e vi posso garantire che è una tastiera davvero ottima, comoda da utilizzare, silenziosa no, ma nemmeno rumorosa, quindi un po' una via di mezzo, compatta, ma ciò non toglie che sia presente, fortunatamente, il tastierino numerico, quindi, diciamo, è una tastiera da gaming barra lavoro, non rivolta a coloro che magari cercano competizione, ecco, ma è un'ottima tastiera per giocare, un'ottima tastiera per lavorare e al giusto prezzo, quindi, insomma, vanta di tutte le caratteristiche di cui avete bisogno da una tastiera Corsair, che è di alta qualità e venduta ad un prezzo abbordabile, anche perché ci sono delle tastiere sul mercato che costano 200-300 euro, quindi rispetto a quella cifra si tratta di una tastiera economica venduta a 80 euro circa e giustificati, cioè, personalmente, io la acquisterei nuovamente qualora un giorno magari dovesse rompersi per qualche motivo, perché la considero un prodotto validissimo, ho avuto modo di testarla per diversi giorni e nella stesura di tantissimi articoli e vi posso garantire che è veramente comoda.